Romani, ma che è tutta sta fretta? Voglio dire, ste carte non te le potevo firmare all'autonoleggio? Sì, dottor Magino, ma come già le ho dette al telefono, ma forse non prendeva bene. Io oggi non ci sto in ufficio, perché vado da mio zio che sta in ospedale, devo andare a donare il sangue. L'unico parente che c'è a Milano sono io. Eh certo, e con la scusa te prendi mezza giornata di vacanza, eh? Lo devo firmare? Buongiorno, signor Franco, Gedeo. Buongiorno, Inza. È sempre un piacere vederla. Dipende dai gusti. Ecco, bravo, questo è l'ingraziamento, e mi sono anche fermata il tuo a comprare caffè per te. Visto che ti sei fermata a prendere caffè, potevi far direttamente tutta la spesa, perché in questa casa non manca solo il caffè. Nel frigo c'è l'eco per quanto è vuoto. Comunque, visto che l'hai comprata, adesso almeno fallo il caffè. No, io adesso faccio lista della spesa, poi scendo per la spesa, e poi quando torno, se mai ti faccio camomila, perché tu già sei troppo nervoso. Ciao, Gedeo, come va? Eh, non tanto bene. C'è un mio parente che sta in ospedale, c'è un problema, deve essere operato. E allora è l'unico parente che c'è a Milano, se voi... E quindi, a donare il sangue, Gedeo gli va di donare il sangue per lo zio, o se ti sbrighi, magari oggi poveriggio riesci a fare una capatina all'automoleggio. Sì, sì, bravo. Non sai quanto ci fanno in università dell'emergenza sangue? Sì, eh. Il problema è che la gente è o egoista o ha paura. Due problemi stupidi, pa, non trovi? Ammazza! Oh, io, forse per me, donerei proprio i fiumi, ma solo, che ne so, che ne so che gruppo sanguigno c'ha lo zio dei romani. Ma tu sei zero positivo, donatore universale. Tutto si ricorda, tutto! Ammazza, che botta di fortuna! Mamma mia, dottor Mangini, se facesse questo gesto di donare il sangue per il mio zio sarebbe bellissimo. No, ma per me donare è una cosa spontanea. Noi soprattutto dobbiamo ringraziare Marco, che si è ricordato che sono donatore universale. Scusate, ho trovato solo questo in frigo, a Marlessio, ma che cos'è? E che ne so? Vabbè, ho fatto la lista, vado a fare la spesa. Sarebbe ora! Oh, senti Marco, a me donare è proprio, appunto, ho detto una cosa che proprio mi piace, mi riempie il cuore dei giochi. Ma se ne sentono tante sull'igiene negli ospedali, la pulizia di questi aghi, queste sirinche, il dopo che li usa, dico, le luci, le lavano, li puliscono bene. Ma sono sirinche monouso, pa, ma non ci avrai mica paura? Paura? Che paura? Paura io? Franco Maggiri c'ha paura? De che? De nago? Franco Maggiri c'ha paura di donare due gocce di sangue? In realtà non sono due gocce, saranno due o tre flacconi. Precisamente sono sacche quadruple, per un totale di 450 millilitri di sangue. Però, quando usciamo dall'ospedale, la colazione la voglio offrire io, non esista. Sta a pensare a colazione, muore. Marco, scusa, ma com'era quella regola antica, quella che non si può donare il sangue se hai fatto colazione? Ma tu non hai fatto colazione. Ah, c'ha? Neanche mamma e lei si non l'hanno fatta. C'è perché non c'è sta niente a casa. Non c'è niente di casa. È vero, tutto, tutto si ricorda. Non c'ho un figlio, c'ho un cane da tartufi, un segugio con Sherlock Holmes. Se non devi andare a studiare oggi, uno studi. De papà che, oh, è stata una bella fortuna pure questa, di non aver fatto colazione, se no i pezzi di cornetto non ci passavano nel tartufo. Ma in realtà la colazione per il prelivo non è un problema, l'unico problema è l'alcol. Ah, ah, l'alcol. Sì, se uno ha bevuto. Ha bevuto non può donare. Romani, devo fare una telefonata, scusa, è una cosa riservata. Ma aspetti giù in macchina e poi subito andiamo a donare... Andiamo a donare... Lascio vedere io l'alcol. Ecco qua. Amara legge, è questo. Sì, sì. Bene, pepe, pepe, l'atto che c'è? Ecco, perché con l'alcol non si può donare. E noi, adesso, andiamo da zio. Magari mi ferma la polizia a stradale per far pallo, zio. Ma ti senti male, eh? No, no, è come, non so, mi sento come se mi avessero prosciugato. Eh, passo, sempre sacche quadruple. Sì, da 400, 50 ml, se lo so, so. Senti, Marco, ti faccio una domanda. Ma se io prima di donare il sangue, so che avessi bevuto dell'alcol, ecco, Cioè, lì, in ospedale, i medici... Se ne sarebbero accorti. Ah, ecco. E mica te lo prelevavano il sangue. Cioè, se ne sarebbero accorti. Certo, non sono mica scemi. Grazie, Marco, eh. Eh? Se ti piace la mia tisana alle erbe, la prossima volta fatti la tua invece di finirti la mia. Oh, ma cosa vuoi? Ma sei scema? Ah, sì, sì, sulla bottiglia c'è anche scritto Amara Lestia. Sai leggere? Quella è una tisana alle erbe. Eh, sì, e non le fa mica tanto bene, evidentemente. Non le manca a me. Ecco perché la... Torno subito. Alessia, lasciami liberi il bagno!